Una bimba di sette mesi positiva al covid-19 ricoverata nel reparto di neonatologia e terapia intensiva pediatrica all'annunziata di Cosenza, la piccola originaria di Casali del Manco presenta un quadro clinico complesso. Avrebbe aggredito per futili motivi la moglie nella loro abitazione, prima verbalmente e poi con schiaffi al volto e calci alle gambe, un 56enne con precedenti di polizia è stato arrestato dai carabinieri a Gasperina. Aumentano i contagi e i ricoveri in Calabria, sono 459 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore con 8.578 tamponi eseguiti. Tre differenti atti vandalici hanno interessato negli ultimi due giorni gli edifici scolastici della Karol Waitiwa e dalla Giochino da Fiore ad Isola Caporizzuto. Aumentano i contagi e i ricoveri in Calabria